Salve, sono Carlo Canelli, sono un consulente del settore moda, mi occupo di organizzazioni di sviluppo dei marchi. Quanto è importante il tema della sostenibilità oggi? Sicuramente è un tema molto importante e sono importanti anche questi momenti di confronto e di dibattito. Credo però che bisogna centrare la problematica su quanto siano validi gli strumenti che oggi hanno a disposizione le aziende per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità. Secondo me la politica dovrebbe aiutare le aziende a sostenere questa transizione ecologica che è fondamentale.